E' stata una grande prova di democrazia quella di Finfium e Wilm andare a fare più di 6.600 assemblee nelle aziende metalmeccaniche, coinvolgere centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori e vedere che il 98% delle lavoratrici e dei lavoratori hanno detto di sì alla piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Federmeccanica e Assistal devono sapere che questa non è più la piattaforma di Finfium e Wilm, ma da oggi è la piattaforma di tutte le metalmeccaniche e di tutti i metalmeccanici del nostro paese. Abbiamo ascoltato la condizione di difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori dove c'è cassa integrazione, abbiamo ascoltato l'intelligenza contrattuale dove abbiamo rinnovato i contratti di secondo livello. Abbiamo discusso con le lavoratrici e coi lavoratori del futuro dell'industria metalmeccanica nella transizione ecologica e digitale. Il contratto nazionale è per noi lo strumento per rimettere al centro del nostro paese l'industria metalmeccanica. Noi vogliamo essere protagonisti del nostro futuro attraverso la contrattazione, la partecipazione democratica delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi non decidiamo da soli nel chiuso di una stanza. Ci confrontiamo faccia a faccia, discutiamo dentro le assemblee, qualche volta litighiamo anche, ma la forza dei metalmeccanici sta nel fatto di essere capaci di avere poi dopo una sola posizione quando si va a un tavolo negoziale e si contratta. Il primo passaggio sarà la presentazione della nostra piattaforma nei confronti di Federmeccanica e Assistal e poi dopo, una volta che l'avremo presentata, si aprirà la trattativa quella vera. Invito le lavoratrici e i lavoratori a sentire questa trattativa come una loro trattativa. Questa sarà la nostra trattativa per costruire il contratto nazionale delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici tutti. È per questo che il salario deve essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori. È per questo che la stabilità del lavoro deve essere un impegno comune di tutte quante e di tutti quanti. È per questo che vogliamo ridurre l'orario di lavoro per garantire l'occupazione nella transizione ecologica e digitale e conciliare la vita con il lavoro. È per questo che gli appalti non possono più generare condizioni di disparità di trattamento. È per questo che guardiamo al futuro della salute e la sicurezza dentro i luoghi di lavoro. È per questo che i metalmeccanici vogliono rinnovare il loro contratto nazionale, perché vogliamo essere al centro della vita del nostro Paese. Grazie a tutti.